Sì abbiamo avuto parecchio tempo per preparare la partita perché comunque abbiamo giocato sabato e poi abbiamo giocato di lunedì ci siamo preparati bene sotto tutti i punti di vista sia tattico che tecnico secondo me abbiamo fatto una buona gara, siamo stati bravi a ribaltarla dovevamo magari gestirla un po' meglio, c'è un grande rammarico però fortunatamente si rigioca subito giovedì e lunedì e cercheremo di sbollentare un po' l'arrabbiatura in campo Che impressioni ti ha fatto questo Pescale? Sì sicuramente è una squadra importante anche se molto giovane giocano bene, un classico 4-3-3 con giocatori davanti molto bravi di fantasia che puntano e saltano l'uomo però noi abbiamo fatto la nostra figura penso penso che abbiamo fatto una partita di livello e questo ci deve far capire che possiamo giocarcela alla pari con tutti comunque nel post partita noi eravamo molto amareggiati, molto arrabbiati perché sapevamo che avevamo la partita in pugno e potevamo fare qualcosa di più ma sicuramente come ho già detto giochiamo giovedì, rigiochiamo lunedì quindi sono due belle occasioni per riproporci subito al meglio in queste due partite stiamo lavorando, stiamo lavorando bene, siamo un bel gruppo e sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni quest'anno